Italvolleydon per sognare verso la sfida secca di domani a Bruxelles contro la Turchia in paio l'accesso alla finale europea. Maddalena Montecucco per noi al seguito delle azzurre del CT Mazzanti. Buongiorno da Bruxelles dove domani la nostra nazionale affronterà la semifinale di questi campionati europei. Ieri pomeriggio abbiamo scoperto anche chi sarà la nostra avversaria, la Turchia, allenata da Daniele Santarelli. Qui con me c'è Miriam Silla, capitana dell'Italia. Benvenuta Miriam. Miriam, cosa deve fare l'Italia per affrontare questa Turchia? Dire così su due piedi che c'è qualcosa in particolare che dobbiamo fare sarebbe un po' una bugia. Bisogna essere in grado di affrontare la partita in base a quello che servirà. Se servirà più attacco e mettercelo, se servirà più essere pronti a cambiare, un po' camaleontici diciamo. Che squadra è la Turchia? Ma è una squadra molto forte, si è rafforzata molto con Vargas e spostando Karakurti in quattro. I centrali, anche loro, sono dei centrali importanti. Al palleggio hanno un giocatore importante che sa gestire il gioco nei momenti importanti. Un libero che arriva su tutti i palloni. Quindi è una squadra completa con tutti i mezzi per far bene in questo europeo. Grazie, grazie Miriam Silla. Allora noi vi ricordiamo l'appuntamento. È per domani pomeriggio alle 17.00 c'è Italia Turchia da Bruxelles. È tutto a voi.